Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 145esima puntata del podcast di Marcos Box. Sta iniziando il caldo, io ve lo dico, fra poco sentirete i rumori delle auto che passano, perché registrerò con la finestra aperta. Vabbè. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Puntata che sarà molto breve questa, perché in questi ultimi dieci giorni non c'è stata tante notizie interessanti da postare sul blog, quindi troveremo pochi argomenti, però argomenti interessanti sotto certi punti di vista. Come si dice, pochi ma buoni. E apriamo questa puntata con una nuova rubrica che ho inaugurato sulle pagine di Marcos Box qualche giorno fa, chiamata Non Recensioni. Che cos'è questa rubrica Non Recensioni? Come lascia presaggiare il nome è una rubrica di recensioni, ma non sono delle recensioni classiche, non sono quelle recensioni di quegli youtuber professionisti che fanno recensioni dove vi fanno fare delle inquadrature stratosferiche dei prodotti che sembrano uscite da un book fotografico di un fotografo professionista. dove vi inquadrano ogni granello di polvere e dove vi inquadrano anche addirittura in alcuni casi remo-reco dei prodotti, perché non ci avete fatto caso tutte quelle inquadrature spaziali che fanno dei prodotti. E poi iniziano a raccontare tutta la scheda tecnica in dettagli di quelli che manco il progettista, secondo me, sapeva di quei prodotti. Sono recensioni più alla buona. Io ho fatto una battuta, le ho chiamate stile casalinga di voghera, anche se mi è stato detto, poi da un'amica che è una cosa molto sessista. E molto sessista, se è stata percepita come sessista, me ne scuso. Giusto per farvi capire che sono delle recensioni non dettagliate, non da professionista, ma sono delle recensioni fatte da uno che utilizza i prodotti e che vi dice le sensazioni a caldo. Quindi, l'utente comune, anzi, parafrasando il partito dell'uomo qualunque, questa, anzi, chiamiamole così, le recensioni dell'uomo qualunque. Non so se conoscete il partito dell'uomo qualunque fondato da un certo Giannini nel dopoguerra. Mi chiamo Giannini, dico un nome, quindi è perfetta per me questa definizione. Che cosa ho recensito in questa prima puntata? Ho recensito una tastiera meccanica, la Drevo T-Zona. L'ho acquistata su Amazon a un prezzo irrisorio, 19,99. Sfruttando poi anche un link affiliazione Amazon di tutti i prodotti che trovate sul mio canale tecnicamente dedicato all'offerta, al quale vi invito a iscrivervi per supportare il blog. E' una tastiera che mi è piaciuta. E' una tastiera particolare, perché si tratta di una tastiera compatta a 89 tasti, quindi ha un ingombo più piccolo. Ha comunque la presenza del tastierino numerico che io adoro. Per me il tastierino numerico è essenziale sopra ogni tastiera, visto il tipo di lavoro che faccio. Ed è una tastiera meccanica, nel mio caso, con degli switch rossi. Ho preferito prendere gli switch rossi, perché sono meno rumorosi dei switch blue della vecchia tastiera. Andate a vedere la recensione, la trovate su YouTube, la trovate su Marcosbox e trovate anche una piccola recensione scritta sul blog. E fatemi sapere che cosa ne pensate di questo prodotto e in generale di questa nuova rubrica. E passiamo adesso a parlare di applicazioni, perché c'è stato un aggiornamento importante per Firefox, che ha visto il rilascio della versione 113.0. Anzi, per precisione, 113.0 è stata rilasciata il 9 maggio. Oggi, il 12 maggio, che sono registrata la puntata, è già stato rilasciato il consueto minor update per andare a correggere i bug che sono stati introdotti con il rilascio di questa nuova versione. Firefox fa sempre così, rilascia la versione, poi dopo qualche giorno, poche di giorni, si accorgono di qualche bug strano, o ma anche di qualche bug grave, e subito fanno una minor raise per fixare tutto. Prendervi più tempo giusto per... non lo so, eh? Lo chiedo, eh? Chiedo per un amico. Vabbè, comunque, parliamo di questa nuova versione di Firefox, che va a introdurre diverse novità, diverse miglioramenti, che migliorano l'esperienza utente sia lato desktop che lato mobile. Iniziamo con la prima grande novità, la modalità picture in picture, che è stata migliorata. La conoscete la modalità picture in picture, consente di avere in riproduzione una finestra, un picture in picture, quindi la finestra del video che state riproducendo, ve la potete portare in secondo piano, anzi, o meglio, in primo piano, miniaturizzata da qualche parte del vostro desktop, e continuare a guardare il video mentre state facendo altro. È molto utile, perché magari state vedendo qualche video tutorial su YouTube, non avete un doppio monitor, vi mettete la finestra e la dall'altra parte vi aprete il programma, così potete avere subito un riscontro e guardare il video e fare quello che state facendo. È soltanto uno dei casi di uso di questa modalità picture in picture, che funziona con YouTube, ma funziona anche con tanti altri siti di streaming. Lo so, a che cosa state pensando. Vabbè, in che cosa consiste di fatto questa miglioria che è stata portata alla funzionalità di picture in picture? Beh, che adesso offre anche la possibilità, che ne so, di fare il riavvolgimento dei video, di avere informazioni sulla durata dei video, c'è anche un'opzione per abilitare la modalità a schermo intero sui siti di video più diffusi e altre cose. Quindi hanno perfezionato la modalità picture in picture, che è una modalità che io trovo molto utile. Altra novità riguarda la barra degli indizi di Firefox, che adesso consente di poter sempre vedere i termini di ricerca su web e di perfezionare, mentre andiamo a perfezionare la ricerca, i risultati della ricerca, senza bisogno di scorrere ulteriormente. Quindi scrivete e vi sarà mostrato. Troviamo poi dei miglioramenti per quanto riguarda la gestione delle finestre private, perché adesso funzionano ancora meglio, bloccando i cookie di terze parti e la memorizzazione dei tracker dei contenuti. Per quanto riguarda le password generate automaticamente di Firefox, adesso includono anche caratteri speciali, offrendo quindi agli utenti delle password più sicure per impostazione predefinita. Migliorate poi le funzionalità dell'accessibilità, con un motore di accessibilità che è stato riprogettato, che migliora sia la velocità che la reattività, che è la stabilità di Firefox quando viene utilizzato un software per la funzione di accessibilità, come i lettori di schermo o altri software di questo tipo. Altra novità riguarda il sandboxing della GPU su Microsoft Windows. Questa funzionalità era stata introdotta con Firefox 110 e per Firefox 113 questa funzionalità è stata ulteriormente migliorata, quindi per aumentare il livello di protezione offerto da questa funzionalità, che secondo anche un rapporto che è stato pubblicato recentemente su Bugzilla, il sandboxing della GPU sta limitando l'accesso a parti sensibili del file system, quindi ha tutto vantaggio della sicurezza per gli utenti Windows. Sempre gli utenti Windows possono beneficiare poi di un'altra cosa, di una funzionalità, anzi, che era stata richiesta ben 13 anni fa e che adesso finalmente è stata soddisfatta grazie ad un utente che ci ha messo le manine. Ed è la funzionalità di trascinamento dei file direttamente da Microsoft Outlook, quindi Firefox adesso supporta il trascinamento dei file direttamente da Microsoft Outlook. Quindi se siete utenti Windows e utilizzate Microsoft Outlook, avete finalmente questa funzionalità, che era stata richiesta ben 13 anni fa e finalmente vi hanno deciso di accontentare. Troviamo poi qualche cosina qua e là, anche per quanto riguarda gli utenti macOS. Gli utenti macOS adesso possono accedere al sottomenu servizi direttamente al menu contestuale di Firefox e quando andiamo a importare i segnalibili da Safari, ma anche da un altro browser basato sul Chrome, quindi è una cosa che funziona sia con Safari che con Chrome, è possibile importare anche le file con dei segnalibili che servono per facilitarne, diciamo così, meglio l'identificazione dei nostri preferiti. Quindi tante piccole novità per Firefox che faranno felici tutti quanti gli utenti che ancora credono nella resistenza. Restiamo a parlare di Firefox con una indiscrezione che è stata riportata dal sito internet e dell'information che se dovesse rivelarsi veritiera potrebbe cambiare un po' le carte in tavola per quanto riguarda gli utenti di Firefox e se presa nel suo intero potrebbe anche spostare un po' l'ago della bilancia per quanto riguarda lo strapotere di Google nel mondo della ricerca sul web. Microsoft vuole che Firefox utilizzi Bing come motore di ricerca predefinito. Come molti di voi ben sapranno, Google paga Mozilla per far sì che Firefox utilizzi Google come motore di ricerca predefinito su Firefox. Lo fa da anni, lo fa principalmente per evitare noie con l'antitrust, però questo è un win-win perché è un accordo che riesce a portare un'enorme quantità di denaro nelle casse di Mozilla che fanno comodo e che, a parte quando vengono sperperate in progetti inutili da parte di Mozilla, sapete benissimo che nel corso degli anni hanno sprecato soldi per fesserie varie, e che poi ci sono dovuti fare anche dei tagli per poter far quadrare i conti. Vabbè, questo è un altro discorso. Porta nelle casse di Mozilla notevole quantità di denaro che contribuiscono a portare avanti lo sviluppo di Firefox. L'ultimo accordo stretto tra Google e Mozilla risale al 2020. Era un accordo con durata triennale, quindi scade nel 2023, scade quest'anno, e si stima che ha portato nelle casse della società tra i 400 e i 450 milioni di dollari in anno. Quindi tanta tanta roba. Quest'anno sta per scadere questo accordo e pare che, secondo le indiscrezioni portate al sito Internet e Information, i dirigenti Microsoft hanno rivelato che Microsoft è in procinto di formulare un'offerta per accapararsi, quindi la fetta degli utenti Firefox, cercando di estendere il suo potenziale bacino di utenti. Perché sapete bene che Bing, nonostante sia un discreto motore di ricerca, non viene utilizzato praticamente da nessuno. È utilizzato soltanto da quegli utenti che non sono smanettoni, diciamo così, che se lo ritrovano installato, che ne sono su Microsoft Edge come motore di ricerca predefinito e che lo utilizzano senza accorgersene di nulla. Ve lo dico io, per quel che può contare, nella mia esperienza personale sto vedendo tantissimi utenti, tantissimi professionisti, perché giro parecchio per studi, professionisti, che utilizzano Edge come browser e quindi utilizzano Bing come motore di ricerca, non si vanno a cambiare. Solito come pre-installato, vedono che sul terreno funziona, così ci affogge, e alla fine utilizzano quelli. C'è anche poi un'altra parte dell'indiscrezione che è stata riportata che potrebbe fare un'offerta scandalosa a Microsoft anche per accapararsi gli utenti gli utenti Apple, quindi per diventare il motore di ricerca predefinito su Safari. Ovviamente che si parla di magnitudo di G, una magnitudo delle cifre è completamente diversa. Secondo me un accordo di questo tipo potrebbe spostare finalmente l'ago della bilancia e intaccare il monopolio di Google e sapete bene quando si vanno a intaccare i monopoli è sempre una cosa buona e giusta per tutti quanti tutto quanto il popolino di tutti quanti gli utenti che utilizzano servizi e applicazioni e quant'altro quindi lo so non dovrei fare il tifo per Microsoft però ben venga una cosa del genere tanto poi noi lo cambiamo il browser predefinito cioè cambiamo sia il browser predefinito su Windows ma cambiamo il motore di ricerca predefinito con un click quindi ognuno utilizza il proprio motore di ricerca predefinito e noi utenti Linux siamo bravissimi a cambiare a sperimentare tutti quanti i motori di ricerca alternativi passiamo adesso a parlare di desktop environment e lo facciamo con due desktop environment uno storico apprezzato conosciuto e quant'altro l'altro invece che è un desktop environment che deve ancora arrivare molti di voi avranno già intuito a chi mi riferisco e che ancora non riesce a muovere i primi passettini all'interno del mondo Linux ma che promette bene il primo desktop environment è KDE Plasma in questi giorni gli eserciopatori di KDE si sono riuniti per pianificare il futuro di KDE Plasma e hanno deciso di sfruttare l'occasione per parlare di delle impostazioni di default di KDE Plasma per migliorare per offrire delle nuove impostazioni predefinite in modo da migliorare l'interfaccia utente out of box e anche migliorare l'usabilità la prima modifica che troveremo riguarda la gestione dell'apertura di file e cartelle che su KDE Plasma 6 avverrà per impostazione predefinita con un doppio clic e non più con un singolo clic ed è una cosa buona e giusta io mi sono sempre chiesto per quale diavolo di motivo avevano impostato come default il doppio clic alcuni distro ci mettono la mano personalizzando se non ricordo male su Fedora viene impostata già da adesso con il singolo clic l'altra modifica riguarda Wayland Wayland sarà la sessione predefinita sarà impostato come sessione predefinita per Plasma 6 X11 ovviamente rimarrà presente e le liste saranno libere di sovrascrivere o continuare X11 se lo ritengono più adatto quindi purtroppo anche KDE Plasma si sta orientando verso Wayland e noi utenti Nvidia allarme anche se le cose molto probabilmente miglioreranno sensibilmente nei prossimi mesi nei prossimi anni quindi potrebbe essere una modifica ininfluente per noi altra modifica riguarda il pannello flottante per impostazione predefinita questa funzionalità è stata facoltativa fin dalla seconda introduzione circa un anno fa e in questo lasso di tempo è divenuta piuttosto proporre fra gli utenti che sceglievano di impostarla come impostata è vero però è carina andate a vedere lo screenshot su Maxbox quindi adesso abbiamo il pannello flottante per impostazione predefinita quindi non ci possono dire più che abbiamo copiato Windows 11 e viceversa modifica questa che trovo molto interessante che a mio avviso avrebbero dovuto introdurre fin da subito riguarda la barra dell'intestazione delle finestre attualmente che cosa succede? succede che se abbiamo una finestra attiva e una in secondo piano non riusciamo subito a distinguere a colpo d'occhio per risolvere questo problema gli sviluppatori hanno deciso adesso di colorare leggermente l'area dell'intestazione della finestra attiva con i colori dell'accento corrente o con i colori della selezione dello schema di colori predefinito se non si utilizzano i colori d'accento che sono che sono stati introdotti qualche tempo fa quindi adesso visivamente avremo che ne so se abbiamo scelto un colore azzurino la finestra attiva sarà azzurina e quindi facilmente potremmo potremmo distinguere la finestra attiva da quella in secondo piano ed è una cosa che non riesco a capire come mai questa cosa non è stata pensata sin dall'inizio almeno non è stata pensata sin da quando sono stati introdotti i colori degli accento avrebbero dovuto introdurre subito a mio avviso una cosa del genere perché io subito ho pensato a una cosa del genere nel mio picco non l'ho detta a nessuno però è un pernacchio non ho proposto mai la modifiche in effetti sono un cretino sotto questo punto di vista dovrei contribuire di più anche con queste idee sceme che poi vengono adottate modifiche poi anche per il selettore di attività gli eserciopatori hanno deciso di utilizzare il task switcher thumbnail grid per impostazione predefinita e apportare alcune modifiche all'interfaccia utente su marcosbox trovate alcuni screenshot e finalmente il task switcher il selettore dell'attività è facile da comprendere ha uno stile classico però è bello a me piace ma una cosa molto importante che è stato deciso un cambiamento molto importante che è stato deciso per KD e Plasma C riguarda il programma di rilascio all'inizio Plasma 5 aveva un programma di rilascio molto veloce con 4 versioni run quando poi si è stabilizzato siamo scesi a 3 a questo ritmo questo ritmo poi è stato mantenuto per l'intero ciclo di vita di Plasma 5 nel corso del tempo gli eserciopatori hanno ricevuto molti feedback da parte delle distribuzioni che hanno evidenziato la difficoltà che un ciclo di rilascio veloce a 3 versioni ogni anno poteva comportare per quanto riguarda i manutentori della distro specie per quelle distro che hanno rilasci semestrali quindi le Ubuntu e anche le Fedora e quant'altro per Plasma 6 gli eserciopatori hanno deciso di utilizzare un programma di rilascio più lento con 2 rilasci all'anno questo ovviamente non appena gli eserciopatori riterranno che Plasma 6 sia abbastanza stabile quindi all'inizio magari ci potranno essere qualche versione in più durante l'anno anzi ci saranno sicuramente le versioni in più durante l'anno ma poi si stabilizzerà a due versioni ogni anno gli eserciopatori di KDE Plasma hanno deciso di contattare poi le distribuzioni con programmi di rilascio semestrali per poter vedere di riuscire a trovare anche delle dati di rilascio che consentono a tutte loro di spedire l'ultima versione di KDE Plasma subito dopo il rilascio piuttosto che saltarla in favore di qualcosa più vecchio di qualcosa più antico quindi di fatto fare la stessa cosa che fa attualmente GNOME avete visto con Fedora viene rilasciata che ne so GNOME verso marzo a non essere il GNOME aprire rilasciano la versione di Fedora e quindi riescono a mantenere allineatosi a guti del desktop environment sulle varie distribuzioni e gli eserciopatori di KDE Plasma hanno deciso finalmente di copiare questa cosa prima vi parlavo di un desktop environment che attualmente sviluppo e sto parlando ovviamente di Cosmic Day il desktop environment basato su RAS il toolkit ISED che System76 sta sviluppando e che vedremo sulle prossime versioni di PopOS e soppianterà GNOME Shell sulla famosa distro derivata da Ubuntu che attualmente sto utilizzando anche io non so perché ho reinstallato PopOS devo essere sincero anche anzi forse lo so anche per via di alcuni commenti che sono stati postati sul canale Telegram di Marcosbox e però devo dire che gira bene dai gira bene io sto litigato con Ubuntu come ben saprete per via di una serie di bug e per via di alcune considerazioni che ho fatto qualche tempo fa e che ho ascoltato anche nella precedente puntata del podcast riguardo la pesantezza di Snap e alcune decisioni da parte del team di Ubuntu di non dedicarci più tanto diciamo così tanto amore e tanta attenzione nei confronti della distro e sto girovagando per l'edistro ho ottenuto per diverso tempo Endeavor nella edizione con Gnome poi nell'edizione con KDE poi mi sono spostato su Fedora e ho amato Fedora nella sua ultima incarnazione e adesso sto amando anche sto ritornando a amare anche Propos perché è una Ubuntu e GTS apparecchiata diversamente dal punto di vista grafico che non ha gli Snap ha gli Flatpak si può mantenere aggiornata nelle applicazioni con applicativi più veloci rispetto agli Snap e più aggiornati rispetto agli Snap e funziona io sto trovando anche meno bug rispetto a Ubuntu Ubuntu già quando la finivi di stare già dimostra anzi già quando la VinLive le spesse volte dimostra pop up di ecco cosa che che PopOS non fa ma comunque torniamo alla notizia torniamo a Cosmic Day il nuovo desktop environment in sviluppo da parte del team di System76 questo mese è tornata System76 a parlarci dello sviluppo di Cosmic Day e ci ha parlato di alcuni aspetti importanti primo riguarda la gestione dei pannelli che verrà fatta mediante il componente Cosmic Panels offrirà caratteristiche simili a quelle attuali quindi alla barra superiore della dock di PopOS tranne per il fatto che adesso i pannelli saranno più versatili potremmo spostare dove cavolo ci piace il nostro piacimento quindi che ne so può essere posizionata a sinistra sopra sotto fatto più grande fatto più più stretto messi tutte e due sciancati quindi largo spazio a livello di personalità grazie alla nuova gestione dei pannelli andatevi a vedere gli screenshot che sono stati postati su Marcosbox è stata poi anche aggiunta la possibilità di impostare un singolo pannello in modalità chiaro scura oppure di abbinare la modalità desktop e mostrarsi che ne so su un pannello su un display con una modalità chiara sull'attuale modalità scura insomma potremo sbizzarrirci a configurarci il nostro ambiente desktop la nostra scrivania l'altra novità riguarda cosmic settings che è il modulo che gestisce le impostazioni di sistema è stata adesso aggiunta un API che consente di rimuovere delle pagine dalle impostazioni quindi i progetti che so volete aggiungere un progetto estendo che vuole aggiungere una pagina predefinita all'impostazione di sistema potrà aggiungere una distro che magari vuole adottare cosmic vuole togliere qualche cosa lo può fare quindi le impostazioni i settaggi le impostazioni di sistema la schermata di impostazioni di sistema sarà libermente personalizzabile altra novità poi riguarda il supporto all'HDR System70C ha in programma il supporto all'HDR in Cosmic Day e sta lavorando per poterlo portare a causa dello stato attuale dell'API del kernel l'HDR può essere piuttosto energivolo però come dicevo gli sviluppatori stanno lavorando per poter cercare di risolvere questo problema e portare un supporto completo all'HDR sulla distro si stima che un adeguato supporto dovrebbe arrivare in un paio d'anni quindi non nel breve termine nel breve termine avremo soltanto la possibilità di abilitare o disabilitare l'HDR in Cosmic sempre legato all'HDR è il supporto del colore 10 bit che è stato aggiunto al compositore di Cosmic una migliore riproduzione di colore è un requisito essenziale affinché funzioni bene l'HDR quindi più ampia la gamma di colore meglio funziona l'HDR e queste due cose stanno viaggiando a braccetto e gli sviluppatori ci tengono a far sapere che stanno lavorando per noi con questo per avere un ambiente desktop con una migliore accuratezza del colore quindi piccoli passi per Cosmic e come ho già detto in concomitanza con altre notizie riguardanti lo sviluppo di Cosmic Speriamo di poterci mettere le mani quanto prima su questo nuovo ambiente desktop speriamo che arrivi qualcosa di installabile confidiamo tutti in System76 che magari riesce a portare finalmente qualcosa di nuovo e di portare come ho detto già in precedenza più concorrenze nel mondo dei desktop e varmi direte voi non ce n'è bisogno nel mondo dei desktop e varmi ma secondo me sì sotto questo punto di vista perché ci troviamo in questo caso in un desktop e varmi completamente nuovo non è una reinvenzione della ruota non è un desktop environment scritto sulle basi di qualche altra cosa utilizzando delle tecnologie già utilizzate è qualcosa di completamente nuovo e speriamo speriamo se sono cose come si dice fioriranno se sono cachi ci siamo capiti ebbene con questa ultima notizia si conclude qui questa 145esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi invito a scrivervi numerosi a seguirmi sulle pagine social quindi Facebook Twitter Youtube LinkedIn con mio profilo privato su Mastodon dove sono attivo con un account vi invito poi soprattutto a iscrivervi a Telegram dove trovate un canale dedicato alle notizie quindi che potete utilizzare in modo di feed reader trovate poi la community collegata al canale Telegram dove potete discutere di tutto e trovate infine un canale dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog e se volete comunque supportare il blog potete anche farlo mediante l'acquisto di una VPN utilizzando i miei codici referral che trovate indicati sull'articolo dedicato su Marcosbox trovate un bannerino sulla destra e avete codici referral per Surfshark per NordVPN per AtresVPN che sapete fanno parte tutte della stessa famiglia quindi andatevi se avete necessità di una VPN trovate un articolo che vi spiega quali sono le differenze tra questi tre servizi e trovate i tre link referral che potete utilizzare per supportare il blog lunga vita e prosperità tutti quanti ci riascoltiamo prossimamente con una nuova puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao ciao